I lavoratori autonomi continueranno a pagare più tasse dei lavoratori dipendenti anche con l'innalzamento della flat tax fino a 85.000 euro di fatturato. Lo sostiene uno studio della CGA di Mestre, secondo il quale solo nella fascia di reddito tra i 60 e i 65.000 euro le partite che si avvalgono della cosiddetta tassa piatta pagheranno meno. La nuova flat tax avvantaggerà solo pochissimi lavoratori autonomi e con un costo anno per le casse dello Stato molto contenuto. E dal confronto con le retribuzioni dei lavoratori dipendenti le partite IVA continuano a pagare molto di più. Secondo un'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi 2021 sarebbero al massimo 140.000 i lavoratori autonomi che con lo slittamento della soglia di fatturato a 85.000 euro godrebbero del vantaggio fiscale garantito dalla flat tax con un costo aggiuntivo per le casse dello Stato di 404 milioni di euro all'anno. Chi in queste ultime settimane ha gridato allo scandalo quindi, secondo il coordinatore dell'ufficio studi CGA Paolo Zabeo, dovrebbe ravvedersi. Basta quindi mettere gli uni contro gli altri. L'unica cosa da fare è ridurre le tasse drasticamente ad ogni contribuente. Sulla base del principio pagare meno per pagare tutti.